Benvenuti, benvenuti alla puntata di oggi di Stampa Evangelo, benvenuti alla riapertura del paliminsesto del Popolo della Famiglia TV. Oggi, 11 settembre 2017, comincia il lungo percorso che Popolo della Famiglia TV condurrà fino all'appuntamento elettorale di marzo 2018, dunque sei mesi particolarmente importanti e vibranti. Saluto Alessia Biaggi, Federico Pieroni, Vittoria Rossi, mia madre Luisa Rinolfi, la saluto. Mauro Chialastri, il primo dirigente del Popolo della Famiglia ad affacciarsi, lo saluto, insieme a Alessandra Tumino, Anna Eccelli. E allora, cari amici, vi ringrazio sempre, è ben mattina, prima mattinata di scuola per alcuni, in alcune regioni, noi nel Lazio abbiamo ancora qualche giorno, però è il momento in cui noi ripartiamo. Saluto Guido Mastrobuono, Anna Eccelli ed Anna Ciappa, c'è anche Ilaria Sorrentino, Leonardo De Stefano e Vittoria Polacci, siamo davvero già tanti. Andrea Cona, del Popolo della Famiglia di Verona, il nucleo importante che ha riscontrato questo grande successo in quel di Verona. Nicola Ocello con Antonino Montagno, Luciana Frangioni e Daniele Mazzoni, c'è Simona Bartoli. Vi ringrazio molto, vi chiedo se vi è possibile non solo di fare un mi piace e un condividi a questa diretta sul vostro profilo, ma se potete anche di invitare i vostri amici a partecipare con Invita alla Diretta, appunto i vostri amici. Saluto Stefania Parma che può stare con noi solo per pochi minuti, Floriano Liberati, Piera Giacometti, Ottavio Delutio, Massimo Dalpasso, Nicola Ocello, Alessandra Tumino, Giovanni Fava, Paola Gans. Oggi parliamo, lo ha detto già Giovanni Fava, di un giornalista che scrive per una rivista cool e anche del più importante giornale italiano che oggi celebra in prima pagina il divorzio immediatamente successivo alle unioni civili omosessuali. Ne parleremo come sempre dopo aver letto la pagina di Vangelo, questa è la caratteristica di stampa e Vangelo. Fatemi salutare Maria Consiglia Pompei, Maria Gabriella Melis, Romana Cordova, Andrea Rossi, Guido Mastrobuono ricorda la pagina della Militanza Digitale PDF 3.0 che trovate qui su Facebook e anche le azioni utili a diffondere le dirette Facebook, un'attività di spiegazione tecnica molto utile che ha fatto Guido Mastrobuono su questa pagina di Militanza Digitale 3.0 che trovate anche qui su Facebook come pagina a cui fare mi piace per avere un po' di tricks, come si dice in tecnica, in gergo tecnico, per far apprezzare a più persone possibili le nostre dirette. Ripeto, oggi parte non solo stampa e Vangelo la trasmissione che state vedendo in questo momento ma tutto il palinsesto del Popolo e la Famiglia TV. Ecco arrivata Francesca Centofanti del coordinamento editoriale di PDF TV e dunque ripartiamo con tutte le trasmissioni, è arrivato anche Nicola Di Matteo il nostro coordinatore nazionale compreso Gianfranco Amato il segretario nazionale del Popolo e la Famiglia che oggi terrà la sua trasmissione del lunedì. Saluto Caterina Sani, Luigi Ameola, Sergio Salucci, Grazia Govoni, tantissimi che stanno arrivando. Vi chiedo dunque un mi piace, un condividi la diretta sulla vostra pagina e un invito diretto ai vostri amici per farli partecipare alla diretta. Saluto Jacopo ed Andrea che insieme a papà Marco Fasulo sono sulla strada per andare a scuola. Buon primo giorno di scuola a tutti i ragazzi che oggi affrontano il primo giorno di scuola, l'ho detto in alcune regioni, mentre nella nostra regione, nel Lazio, si andrà a scuola il 15 settembre in maniera abbastanza folle. Si va a scuola di venerdì. Saluto Luca Andrea Massaro, il vice direttore di Aleteia, un bellissimo sito che vi consiglio sempre di seguire per avere notizie, informazioni. Un mondo web veramente importante per il mondo cattolico. Saluto Paul Freeman, Luigia Meola e allora andiamo a leggere. C'è anche Andrea Artegiani, una delle nuove firme del Quotidiano La Croce che si è sperimentato in questi primi giorni di settembre. Ha già pubblicato tre articoli e è stata una grande sorpresa. Ancora una volta un bel successo per il Quotidiano La Croce in termini di talent scout, di costruzione. Tanti delle firme che in questi tre anni hanno animato il Quotidiano La Croce, sono diventati scrittori, ormai firme note. Auguro questo anche ad Andrea. Saluto Maria Marrosu, Mina Sole, Faustino Cogliandro, Vincenzo Sadi. E adesso andiamo a leggere anche Elena Bentini, la grande Elena Bentini, insieme ad Angela Ciconte, una delle autrici di Popolo della Famiglia TV, una delle conduttrici. Andiamo a leggere il Vangelo del giorno. Ed è il Vangelo di Luca. Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. Ora c'era là un uomo che aveva la mano destra inaridita. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva di sabato, allo scopo di trovare un capo di accusa contro di lui. Ma Gesù era a conoscenza dei loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano inaridita, alzati e mettiti nel mezzo. L'uomo alzatosi si mise nel punto indicato. Poi Gesù disse loro, domando a voi, è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o perderla? E volgendo tutto intorno lo sguardo su di loro, disse all'uomo, stendi la mano. Egli lo fece e la mano guarì. Ma essi furono pieni di rabbia e discutevano tra di loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Questa è la parola del Signore di oggi. Come sempre, come sempre, oggi siamo nel Vangelo di Luca, abbiamo passato tutta la prima stagione di Stampe Vangelo con il Vangelo di Matteo, ora siamo nel Vangelo di Luca, ma la chiave è sempre la stessa. Una dialettica fortissima tra capacità innovativa. Fatemi salutare intanto Emanuela Bongiruppi Leuteri del coordinamento editoriale, arrivata anche lei alla diretta. Dobbiamo a lei molto del lavoro svolto da PDF TV, quindi grazie Emanuela. Questa dialettica tra la capacità innovativa fortissima di Cristo, che arriva e cambia, fa nuove tutte le cose, comprese le norme, comprese le abitudini, e che non teme le conseguenze, che come sappiamo saranno terribili, della vendetta degli uomini. Ma l'innovazione, la capacità di davvero rendere nuove tutte le cose, è il lascito più forte che ci regala Gesù Cristo. E questa pagina di Vangelo ci indica la strada, non temere il giudizio degli altri, non temere di essere lì in mezzo. Leggete bene la sceneggiatura di questa pagina di Vangelo, straordinaria nella sua cinematograficità, mi verrebbe da dire, con Gesù che dà proprio le direzioni sceniche, dice fai nel mezzo, stende la mano a tutti questi gesti che evidentemente costruiscono anche la modernità del linguaggio, due millenni dopo del Vangelo di Gesù Cristo. E allora tutto questo, come sempre, serve a noi per trarre coraggio nel momento della difficoltà, nel momento della fatica. Diciamocelo con chiarezza, questa è la prima puntata di un percorso di sei mesi, 180 giorni, un periodo molto limitato in cui il popolo e la famiglia, siamo su popolo e la famiglia tv, quindi parliamo di popolo e la famiglia, affronterà i passaggi decisivi. Avremo già le elezioni a Ostia, il 5 di novembre, ci sono le regionali in Sicilia, poi le elezioni politiche, immagino, non dopo l'11 marzo. La scorsa legislatura si votò il 24 febbraio. Quindi, entro i prossimi 180 giorni, i cristiani, gli uomini di buona volontà, coloro che vogliono opporsi al pensiero unico, hanno una possibilità importante attraverso l'espressione del consenso, l'organizzazione, la presenza, la testimonianza resa alla verità. Questa occasione importante la dobbiamo a noi stessi e la dobbiamo come fedeltà all'ascito di Gesù Cristo. Di questo io sono profondamente convinto. Parliamo dei fatti del giorno, dal Vangelo, andiamo alla stampa, andiamo alla prima pagina del Corriere della Sera di oggi, prima pagina del Corriere della Sera, che celebra, ovviamente, il divorzio della coppia Arcobaleno. Abbiamo passato l'anno precedente, 2016, a celebrare le finte nozze Arcobaleno. Non sono matrimoni, sono unioni civili, quindi non ci sono i divorzi, però la chiamano così. Lo chiamano matrimonio e chiamano, sulla prima pagina del Corriere della Sera, molto ampio lo spazio dedicato, dipinto a colori pastello, e questo divorzio non è il primo, in quest'estate è stato un pullulare di divorzi, di rotture delle unioni civili, che considerate sono entrate in vigore il 6 giugno del 2016 e i primi hanno cominciato a stipulare le unioni civili ad agosto-settembre. Dopo sei mesi di unioni già abbiamo un sacco di divorzi da raccontare, c'è gente che è stata insieme sei mesi e poi si è mandata a quel paese, ma questa vicenda ha una sua particolarità. Intanto vi ho visto i nomi e i cognomi. Fatemi dire subito che questo non vuol dire additare le persone, voglio dire anche che la persona di cui parlerò in particolare, questo collega che è un giornalista della rivista internazionale, una delle riviste più cool, che piace alla gente che piace, si chiama Claudio Rossi Marcelli, lo considero tra l'altro un bravissimo giornalista e una penna anche di grande qualità. Questa penna di grande qualità è stata messa al servizio della propaganda alla cosiddetta famiglia gay e alla omogenitorialità. Questo Claudio Rossi Marcelli ha un suo compagno, ha scritto articoli e libri anche per celebrare questa sua condizione sentimentale, dopodiché fatemi salutare Doardo Leone. Doardo Leone è Danilo Leonardi col suo terzo pseudonimo, perché è sotto attacco di censura Facebook costante. Un saluto particolare a Danilo Leonardi, che è uno dei tanti tra noi che deve passare la censura e deve trovarsi la modalità per poter parlare. Allora, Doardo Leone è Danilo Leonardi, sappiatelo, uno dei dirigenti più importanti del popolo e della famiglia, un importante dirigente anche della RAI. Quindi, questo per dire che ho lasciato anche un'intervista, proprio ieri, a Codiano Il Tempo, in cui ho denunciato e annunciato azioni del popolo e della famiglia contro il dittatoriale metodo di gestione della libertà d'espressione su Facebook. Ieri ho cominciato a profilare una battaglia di tipo non solo politico-istituzionale, ma anche giuridico, contro questa violazione plateale fatta all'articolo 21 della Costituzione. Fatemi salutare anche Alberto Cerutti, una delle colonne del popolo e della famiglia a TV, ringraziandolo per il lavoro che svolge e per la sua trasmissione, sempre preziosa come tutte le trasmissioni di popolo e della famiglia a TV. Allora, dicevo, questo collega, dopo aver fatto tutte queste libri in esaltazione della sua condizione di felice sposo in coppia omosessuale e ovviamente di omogenitore, perché questi due gay hanno anche tre bambini presi con l'utero in affitto e dunque tutta questa tarantella, o come dice Federico Pieroni, carnevalata di sposarsi per poi far durare tutto questo il niente, ma mettere di mezzo dei bambini, a cui è stato negato il diritto di avere una madre, attenzione, perché siamo dentro a questo, tolto il diritto ad avere una mamma, comprati a botte di centinaia di migliaia di dollari, come ho detto, in America, usando una stessa donatrice, una stessa gestante e per due bambini il seme di Claudio, cioè del giornalista internazionale, per un bambino il seme del compagno. Ora, al trauma violentissimo del distacco di questi bambini dalla donna che li ha partoriti, ricordiamo sempre, chiunque di noi ha figli ha idea di cosa voglia dire, strappare i bambini alla donna che li partorisce, trauma pesante per la donna, pesantissimo per i bambini. A questo trauma si aggiunge il trauma di non aver diritto questi bambini ad avere una mamma, allo stesso tempo hanno tutti e tre lo stesso patrimonio genetico, paradossalmente sono molto più legati alla donatrice cosiddetta dell'ovulo che ai due genitori omogenitoriali, come vengono definiti. Sono fratelli dal punto di vista del patrimonio genetico grazie al rapporto unico sempre con il patrimonio genetico materno. Questo punto di vista, il punto di vista del diritto del bambino, in tutto questo non esiste. Nel racconto del Corriere della Sera che venti mesi fa, non più di venti mesi fa, il 7 dicembre del 2015. Fotografava, metteva proprio una fotografia della omogenitoriale famiglia felice generata attraverso i meccanismi di utori in affitto, poche settimane prima del Family Day per dipingere quanto fosse bella la famiglia omogenitoriale, quello stesso Corriere della Sera che oggi, venti mesi dopo, racconta a tinte pastello questo presunto divorzio che divorzio non è perché la legge sulle unioni civili non prevede neanche la separazione. Ora, io non parlerei di questa vicenda personale di un collega, peraltro di Claudio Rossi Marcelli, di questo collega di internazionale, se questo collega non avesse fatto un passaggio che mi ha molto preoccupato e che avevo seguito già qualche mese fa. Nell'aprile del 2017, dopo un periodo appunto di libri, articoli, nell'esaltazione del suo rapporto con questo compagno e la famiglia omogenitoriale, nell'aprile del 2017, quando evidentemente già le cose andavano in una certa direzione, su un internazionale, Claudio Rossi Marcelli, pubblica un articolo intitolato così «Le coppie gay e lesbiche cambieranno il matrimonio tradizionale». Attenzione! Una finalità ideologica. Roberta Lenzi dice che non si vede e non si sente. Io dai numeri ho una fluidità piuttosto seria di ascolto in audio e in video. Se qualcuno di voi mi dicesse che sta ascoltando audio e video bene, io potrei confermare che l'audio e video è funzionante e andare avanti appunto. Chi si sente bloccato basta che stacca e riattacca, eh? Perché tutti quanti Elena, Vittoria, Alex scrivono che l'audio e il video sono ok. Quindi anch'io ho i parametri che dicono che funziona. Quindi staccate e riattaccate se non riuscite a vedere. Dicevo, l'11 aprile 2017 su Internazionale esce questo articolo le coppie gay e lesbiche cambieranno il matrimonio tradizionale. All'interno di questo articolo viene proprio teorizzato che il matrimonio cosiddetto omosessuale è superiore. Anzi, perché? Perché prevede l'infedeltà poliamorosa. Dice proprio esplicitamente che il 41% delle coppie gay non vive in condizione monogamica la propria unione. Ed è una condizione che riguarda i gay maschi e non le lesbiche. E questo, secondo l'articolo per il solito retaggio di violenza psicologica che i maschi operano sulle femmine e che le costringe alla fedeltà. Insomma, la fedeltà sarebbe una costrizione antropologica e non un dato consistente e strutturale del matrimonio. Allora, il matrimonio da millenni è l'unione tra un uomo e una donna che assumono responsabilità verso la condizione pubblica e assumono responsabilità verso l'eventuale prole. Questo da millenni dal codice di Hammurabi è qualcosa di pre-cristiano presente nel codice evidentemente nel diritto romano e ovviamente anche profondamente innovato e rafforzato dalla tradizione cristiana. Ma che si arrivi a dire che adesso il matrimonio gay deve andare i suoi parametri per cambiare il matrimonio tradizionale evidenzia cosa? Evidenzia la finalità reale che c'è dentro questa operazione tutta l'operazione dei cosiddetti matrimoni gay. La finalità è distruggere il matrimonio la finalità è distruggere il matrimonio se tu dici il matrimonio deve essere poliamoroso e l'infedeltà deve essere strutturale evidentemente dicendo questo stai distruggendo l'istituto matrimoniale che è invece un'assunzione di responsabilità che prevede la permanenza del rapporto tra conugi evidentemente cementato dalla dimensione di fiducia reciproca che si ricade nella genitorialità consapevole e dunque responsabile nei confronti dei figli quello che è al fondo di ogni teoria sull'omogenitorialità e sulle cosiddette famiglie omosessuali è la distruzione dell'istituto del matrimonio e la distruzione dell'idea di famiglia anche definita dalla costituzione come società naturale fondata sul matrimonio è questa l'ideologia di fondo per questo le leggi sull'unione civile prevedono sostanzialmente un divorzio in cui uno dice vi voglio divorziare boom divorziato senza separazione senza neanche i sei mesi del divorzio breve niente ci sono tre mesi 90 giorni dopodiché tutto viene ratificato persino in condizione di contrarietà dell'altro coniuge allora cosa stanno cercando di fare questo voglio dirvi e il racconto che c'è oggi su quella sera fa parte di questo disegno normalizzare l'idea della coppia omosessuale normalizzare per esempio l'idea che oggi questi poveri bambini che sono stati insieme per anni verranno inevitabilmente divisi perché per la legge italiana che non prevede la omogenitorialità maschile uno di quei tre bambini è figlio del compagno del giornalista due sono figli del giornalista che però si è scoperto poliamoroso e adesso andrà per conto suo chi paga il prezzo di tutta questa confusa artificiale e per certi versi criminale offensiva contro la famiglia lo pagano i più deboli come sempre lo pagano quei bambini a cui è stato prima negato il diritto ad avere una mamma ed ora vengono addirittura violati in maniera così enorme con lo split tra fratelli che sono vissuti insieme che sono fratelli in virtù del patrimonio genetico materno però allo stesso tempo la madre è negata e allora sono andato a ricercare per voi le tracce e sono andato a cercare i nomi i cognomi di chi è per esempio la madre del patrimonio genetico si chiama Jamie Kramer Jamie Kramer è la donatrice dell'ovulo per tutti e tre i bambini e questa Jamie Kramer lo dice chiaramente l'ho fatto perché attirata da un annuncio in cui si diceva che mi davano per ogni ovulo 10.000 dollari 10.000 dollari e l'altra quella che ha messo al mondo i figli cioè la cosiddetta gestante che si chiama Tara Tara Bartolomeu lo fa per 20.000 dollari ed è una donna della working class che dice chiaramente che questi soldi li userà per pagare l'istruzione dei figli dei propri figli quelli che considerano i propri figli perché li cresce chi paga questo prezzo enorme della commercializzazione di ciò che è di più bello esiste al mondo che è la maternità chi paga questo prezzo se non le donne e i bambini cioè i soggetti più deboli di questo percorso che dovrebbe essere invece un percorso familiare e quindi di amore gratuito ci si può opporre legittimamente a questa oscenità continua ci si può opporre sul piano dell'informazione a chi ci vuole spiegare anche oggi in prima pagina sul Corriere della Sera che va tutto bene ed è tutto uguale a ciò che accade in una famiglia tradizionale bene voi sapete io sono divorziato lo sapete non l'ho mai nascosto il mio matrimonio è naufragato nel 1999 18 anni fa mi ricordo però perfettamente bene tutto il percorso il dolore i tre anni di separazione ho tutte le ferite addosso della ragione più forte per cui faccio la battaglia a favore della famiglia quello che ricordo però alla fine fondamentale è che per la figlia che nacque da quel matrimonio esisteva ed esiste una mamma e un papà esiste questo la dimensione che salva ancora oggi l'uomo venite venite passate passano Silvia Clara ecco qua la dimensione che salva l'uomo è che dentro il progetto di verità che Dio ha costruito per noi se crediamo in Dio o che la natura costruisce per noi se non crediamo in Dio quel progetto di verità prevede inevitabilmente che ognuno di noi abbia una mamma e un papà questa è la grandezza enorme incancellabile del progetto di verità che Dio è scritto nella nostra vita o la natura è scritto nella nostra vita se non crediamo in Dio questo è ineliminabile tutta la costruzione artificiale pastrocchiata dell'omogenitorialità che ama ma anzi a termine poi vediamo intanto mi compro il bambino faccio la donatrice dell'ovulo per 10.000 dollari faccio la gestante forno per 20.000 tutto questo è un commercio intollerabile e vergognoso il cui prezzo viene pagato dai soggetti più deboli donne e bambini e che ha come fondo all'interno di un progetto complessivo l'attacco alla famiglia e l'attacco all'istituto del matrimonio questo è ciò contro cui il popolo della famiglia con evidenza e nettezza che nessun altro ha neanche sul piano dell'analisi si batte questa è la ragione stessa d'essere del popolo della famiglia è la ragione stessa per cui ci siamo ritrovati in milioni a San Giovanni e a Circo Massimo e per cui ora dobbiamo assolutamente inevitabilmente riuscire a condurre in porto una battaglia di militanza di raccolta di consenso altrimenti quello che leggiamo oggi sul Corriere della Sera diventerà nella prossima legislatura legge dello Stato italiano e noi questo non possiamo consentirlo se siamo fedeli all'ascito di Gesù Cristo che nella pagina di Vangelo di oggi guarda gli altri guarda ma cos'è non si può dire non si può fare è giusto farlo è giusto o no farlo e allora lo faccio dice Gesù incurante delle conseguenze drammatiche tutto questo avrà sulla sua persona allora noi dobbiamo come dice Danilo Leonardi Doardo Leone dove si fa mercato di esseri umani non c'è mai giustificazione possibile anche nella situazione più tragica sapere di avere un padre e una madre è comunque la radice fondante che salva che salva la dimensione dell'essere perché gli dà un elemento di verità e di radice appartenenza saluto Massimiliano Coccia di Radio Radicale saluto di tanti amici che sono venuti a seguire questa diretta Massimiliano Amato ho già ricordato che oggi riparte tutto il palinsesto di Popolo della Famiglia TV e dunque anche la trasmissione di Gianfranco stasera come fettere fine a ciò chiede Antonio Grauso si mette fino a ciò se il Popolo della Famiglia prende 2 milioni di voti alle elezioni politiche porta 60 persone alla Camera e 30 al Senato e impedisce con la sua forza che niente di tutto questo diventi legge dello Stato Italiano mentre invece purtroppo permette altre leggi come quelle californiane a questi signori di andare lì e comprarsi i bambini perché le leggi lo consentono perché se le leggi non lo consentissero allora tutto ciò non avverrebbe noi di questo dobbiamo essere consapevoli come si esce da questo da questo circuito che è stato avviato con la scorsa legislatura che ha portato all'approvazione della legge Cirinna che approva la legittimazione di fatto dei meccanismi di utorino affitto pur essendo illegali in Italia solo dimostrando che c'è un consenso su una piattaforma politica alternativa che diventa anche piattaforma culturale e piattaforma mediatica io tra qualche minuto alle 10 e 10 darò un'intervista a una radio Radio Cusano Campus ieri ho dato questa intervista al tempo ciò è battaglia culturale e mediatica dobbiamo poi arrivare al traguardo della consapevolezza politica di un popolo che deve capire che l'alternativa possibile ai falsi mili di progresso è la raccolta di consenso su una piattaforma alternativa non c'è altro che questo non c'è altro che questo come vedete siamo tornati ad avere l'angelo custode che ci protegge alle spalle per ogni diretta vi chiedo preghiere anche per la mia persona se volete perché manteniamo la salute in questi mesi decisivi e per il popolo e la famiglia affinché la sua testimonianza di verità sia premiata dal risultato che ci aspettiamo dobbiamo essere consapevoli che abbiamo portiamo sulle nostre spalle la responsabilità la responsabilità della difesa di principi essenziali che altri assolutamente non considerano come scrive Salvatore Asero qui in diretta la politica del popolo e della famiglia ha come punto di partenza la difesa dell'ovvio ed è un paradosso necessario c'è anche il gruppo preghiera popolo e la famiglia connesso qui alla diretta con noi il popolo il gruppo preghiera sostiene con la preghiera perché le due azioni sono sempre quella azione tecnico politico comunicativa e preghiera per arrivare al risultato saluto Cinzia Gioia che cita le letture Mauro Torrini dice oggi 11 settembre ricordiamo le vittime del terrorismo oggi è il giorno in cui io firmo o capiamo o moriamo oggi firmo il visto si stampi non lo firmo in un giorno casuale per il mio prossimo libro noi nei prossimi giorni ne parleremo ma non lo firmo oggi che è 11 settembre quindi non è un caso insomma che faccio questo saluto Cristina Zaccanti sta lavorando anche sul fronte degli italiani all'estero altro fronte importante per le elezioni saluto Giovanna Arminio a proposito delle elezioni la protagonista delle prime elezioni è la prima donna eletta anzi la prima eletta in assoluto del popolo della famiglia che però adesso dal territorio del Trentino Alto Agile se non sbaglio si è trasferita in Sicilia quindi altro territorio elettorale importante a novembre Cristina Zaccanti ci ricorda ci ritroviamo tutti a Riolo con Giuseppe Focone Andrea La Rosa Danilo Bassan Riolo Terme festa nazionale del popolo della famiglia festa nazionale della croce come la festa dell'unità per capirci per il PD noi abbiamo fatto la festa della croce Giovanna Arminio ci conferma che è a noto festa della croce che il 23 e 24 di settembre ci vedrà a protagonisti con tutti i dirigenti del popolo della famiglia a tanti ospedi importanti e la apriremo proprio con la presentazione di capiamo moriamo il nuovo libro con Costanza Miriano non perdetevi questo evento l'apertura 15 e 30 della festa della croce a Riolo Terme il 23 di settembre sabato Monica Consigliere dice non parli mai dell'eterologa ne parlo fin troppo ho scritto già in voglio la mamma non hai letto voglio la mamma cara Monica Consigliere ne parlo da anni e ne scrivo purtroppo ne scrivo perché sono assolutamente chiaro e netto da questo punto di vista figuriamoci ne parlo è sbagliata è un commercio di esseri umani sono assolutamente d'accordo cara Monica Alberto De Marchi dice cosa ne pensi il referendum per l'autonomia di Lombardia e Veneto sono di quelle cose che mi interessano relativamente lo dico chiaramente però i dirigenti sia Lombardi che Veneto e il popolo e la famiglia prenderanno le loro decisioni rispetto alle loro realtà territoriali quindi credo tendenzialmente a favore ma noi dobbiamo capirci che tutte queste cose tutti i meccanismi non valgono nulla non è che dopo c'è l'autonomia di Lombardia e Veneto è un referendum un consultivo che vale poco o niente che serve a fare campagna elettorale quindi siccome serve a fare campagna elettorale per liste concorrenti alla nostra diciamo così ha un interesse relativo per noi del popolo della famiglia detto questo ovviamente i principi di autonomia sono sempre molto legati al nostro principio di sostitualità che è uno dei principi declinati nei 26 punti di orientamento programmatico del popolo della famiglia quindi stanno ovviamente dentro il nostro orizzonte programmatico Massimo Dal Passo ricorda di non mancare 23 e 24 a Riolo vi chiedo anch'io di non mancare sarà un appuntamento estremamente importante voglio arrivare alla conclusione di questa diretta ricordando un grande attore guardate sempre l'angelo come ci protegge però eh guardate quanto è bello davvero eh un grande attore che si chiamava Gigi Buruano è morto ieri è morto ieri ed è un attore che sul tema della famiglia secondo me ha veramente dato moltissimo sia al teatro che in al cinema eh in televisione qualcuno se lo ricorda come protagonista nella serie tv culto per eccellenza che è La Piovra è stato anche qualche episodio di Montalbano eh al cinema è noto perché eh ha interpretato il ruolo di del papà di eh Peppino Impastato nel noto film I Cento Passi Peppino Impastato è interpretato da Luigi Locascio e pochi sanno che Gigi Buruano era lo zio nella vita vera di Luigi Locascio in I Cento Passi il film su Peppino Impastato eh il ragazzo comunista di Radio Out che viene ucciso dalla mafia da Tano Badalamenti perché aveva fondato questa radio contro la mafia in Sicilia c'è una scena molto forte di scontro tra Peppino Impastato e il papà Luigi Impastato che era in realtà vicino al mondo mafioso e non riusciva a rompere il legame con quel mondo fino a finirne ucciso peraltro ehm bene questo per raccontare un po' il contesto cinematografico di Gigi Buruano e della importante eh figura che è stata per il cinema per la televisione e per il teatro italiano quello che non troverete oggi sui giornali non lo troverete è un episodio della vita di Gigi per certi versi anche molto doloroso forte ehm Gigi vide il genero rompere con la figlia e questo questo racconto non lo trovate sui giornali però insomma lui si arrabbiò al punto da attaccare il genero anche violentemente con quello che ha ehm a Palermo si chiama una puncicata cioè col coltello per questo Gigi Buruano pagò pagò prezzo molto caro non lo trovate nei coccodilli di oggi ma ehm con l'accusa di lesioni gravi ehm venne condannato mi sembra a 16 mesi di reclusione quello che non vi raccontano è che questo atto così forte violento per certi versi disperato di un papà nei confronti della figlia che veniva lasciata per certi versi tradita anche umiliata non venivano pagati gli alimenti ha provocato poi la riconciliazione tra il genero e la figlia che sono tornati insieme avevano tre bambini avevano tre bambini e Gigi non sopportava l'idea che quella famiglia si frantumasse e dunque ha risposto come risponde una persona di sangue non voleva far male evidentemente ehm lo ha fatto però dal punto di vista delle leggi è condannabile e ovviamente non siamo qui a discutere sulla violenza neanche se ne parla è ovvio però voglio dire non troverete questo episodio ma sappiate che Gigi ha salvato in quella maniera una famiglia la famiglia di sua figlia lo ha fatto con la durezza la severità del padre la famiglia si è rimessa insieme i tre bambini sono cresciuti con mamma e con papà anche per questo io voglio ricordare Gigi oggi per ricordare un uomo morto a 69 anni troppo presto di un coraggio leonino di una grandezza artistica enorme persino sottovalutata tant'è che molti oggi non sanno questo nome non dice niente se vedete la faccia però sì e ricordando questo episodio della sua vita che i giornali ovviamente oggi non vi racconteranno che però vuol dire un papà che con la severità la durezza addirittura con la violenza ha salvato il matrimonio della figlia ha salvato i suoi nipoti e ha dato ai suoi nipoti una famiglia unita in cui crescere e io a Gigi per questo voglio bene quello che voglio dirvi in più è che ho parlato anche della vicenda terribile del saluto Paolo Bonaiuto che è arrivato un po' ritardo oggi alla diretta Saferio Battellini dice Facebook mi impedisce di condividere la diretta mi dispiace molto di dare questo impedimento invita gli amici a partecipare eventualmente fai invita e così li fai partecipare comunque dicevo ho detto nelle ultime 24 ore quello che penso anche della vicenda dell'orribile atto compiuto dai due carabinieri ai danni di queste due studentesse completamente ubriache ho scritto un pensiero che si concludeva con la frase ora servono padri severi e tutti hanno interpretato questa frase come relativa solo alle ragazze quando io dico padri severi anche relativa ai giovani carabinieri che hanno compiuto quello scempio allo stesso tempo però poiché so che i carabinieri che fanno atti del genere sono pochissimi mentre invece i giovani che si rovinano i weekend e qualche volta la vita abusando in maniera vergognosa di alcol e droghe sono moltissimi in numero di milioni stigmatizzando e dicendo che devono essere cacciati dall'arma quei due che hanno compiuto questo atto assolutamente sceno il richiamo lo pongo su ciò che dobbiamo fare come padri come genitori nei confronti di milioni di nostri figli che hanno comportamenti folli di dissipazione di sé attraverso alcol e droghe visto che oggi è il giorno in cui cominciano le scuole sappiate cari amici che dove comincia una classe di 25 liceali o di scuola superiore di terza quarta o quinta annualità troverete un consumatore di cocaina due consumatori di oppiacei o droghe sintetiche cinque consumatori di cannabis e sette che abitualmente si ubriacano nei weekend nell'uscita di gruppo sappiatelo 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 da genitori sappiate che sono numeri statistici non è un'invenzione di Maria di Nolfi sono dati istat tutti dati istat sul consumo di alcol droghe cosiddette leggere droghe sintetiche e droghe pesanti questi sono i numeri allora ripeto siccome ci sono centomila carabinieri e due che hanno fatto una porcata ovviamente io pongo lo stigma sulla porcata e su quei due non sull'arma dei carabinieri allo stesso tempo dico attenzione perché quei comportamenti di quelle due ragazze arrivati alla totale incoscienza di sé sono comportamenti abituali come dice Corrado Salonia mia figlia liceale 18enne mi dice che la maggior parte dei suoi amici bevono e fumano e lo ripeto le statistiche dicono che se andati in una classe come la classe della figlia liceale 18enne di Corrado trovate un consumatore di cocaina due consumatori di oppiace cioè eroina o droghe sintetiche MDMA ecstasy GBH 5 consumatori di cannabis sto dicendo abituali e 7 che si ubriacano generalmente in tutti i weekend in cui escono con gli amici adottando pratiche che si chiamano binge drinking che vuol dire 6, 8, 10 shot di alcol pesantissimo e scadente che rovina il loro fisico e li porta in condizioni di assoluta incapacità di intendere e di volere non si tratta di un fenomeno che riguarda poche persone sono fenomeni che riguardano milioni di studenti italiani e allora come dice Giovanni Fiori davvero abbiamo bisogno di padri che facciano i padri e non c'è in questo c'è uno che ha scritto ah stai tornando al 1920 non c'è in questo nulla di retrogrado i padri facciano i padri aver minato la figura paterna aver creato il mammo aver svirilizzato il padre averlo reso un compagnone amichevole è al fondo degli errori della nostra società allora dobbiamo da questo punto di vista essere consapevoli anche qui come popolo della famiglia dire ciò che va detto senza temere il giudizio altrui senza temere che ci siano condizioni contestuali che impediscano la nostra espressione libera del pensiero anche se vuole censure anche se questa diretta magari ci causerà un altro mese di blocco su facebook noi continueremo a dire insistentemente con costanza come goccia che vuole scavare la pietra ciò che è giusto perché è giusto ciò che è sbagliato perché è sbagliato Danilo Leonardi dice confermo per esperienza diretta con i miei figli solo una educazione netta severa fatta di esempio personale che oggi si paga salva i nostri ragazzi lo scrive Doardo Leone un uomo che per le sue idee sta pagando col bavaglio di facebook uno dei tanti nostri amici dirigenti del popolo famiglio amici del mondo cattolico che fanno che pagano il prezzo alle loro idee in questa maniera e Cesare Fanfani aggiunge giustamente che è importante far conoscere il vero padre certo il vero padre è ovvio vi ringrazio molto per la diretta di oggi saluto Dante Santa Croce Ronda Rondelli che è appena arrivata in diretta Alberto Cerrutti parla di giovani falsamente liberi e dolorosamente smarriti bello bellissima espressione hai perfettamente ragione saluto Cinzia Gioia uno sguardo lucido sulla realtà vorrei vedere chi può smentire i dati di Mario i miei dati non vengono smentiti mai Cinzia perché i dati sono dati i numeri sono numeri e loro mi dicono di tutto ma sui numeri non mi contestano mai perché sanno che sui numeri io li so e loro no quindi state tranquilli niente sui numeri può essere può essere contestato da nessun punto di vista Meritossi sottolinea appunto il tema della trasmissione della fede ai figli come fondamentale per dare un senso alla vita saluto Irene Stagliano un abbraccio anche a Lili Cossu dalla Sardegna vi prego davvero di fare un condividio a questa diretta sulla vostra pagina a fare un mi piace se volete se vi è piaciuta la diretta fatemi salutare Emanuele Lobue che dice il potere forte vuole il popolo rincoglionito e le sostanze sono uno di questi mezzi ottima riflessione state di salutare Francesco Cappi Mari De Cristofaro Alessandra Mondelli Alex Zino l'avevo già salutato Bernarda Raucci insegnante nella frontiera appunto fondamentale della scuola Monica Consigliere dice sono tosto e ne abbiamo bisogno prometto di essere tosto e di non tacere mai finché non mi sparano ragazzi che vi devo dire saluto Michele Ermanno Schillaci Stefano Brughi Leonardo De Stefano Luca Campisi da Riccione vi ricordo se volete alle 10.10 parlerò di questi temi a Radio Cusano Campus per una diretta radiofonica per continuare ad alimentare queste tematiche nel sistema mediatico nazionale saluto Fiorella Salmi da Roma il caro Stefano Sigali dalla Versiglia Giovanni Pecora dalla Calabria si comincia il 14 settembre la scuola in Calabria pregate per tutti noi insegnanti cattolici davvero preghiamo per gli insegnanti cattolici e per te caro Giovanni saluto Salvatore Di Marino Anna Russo Massimo Cardito Maria Marroso instancabile Mario alle 10.10 non lasciatemi solo nell'intervista a Radio Cusano Campus anzi se potete registratela cercate di fare circolare insomma Nathan Matteodda dice capelli ok polo ben stirata look in miglioramento va bene non punto sul look diciamo spero di puntare su qualche sinapsi neuronale attivata in più diciamo questo è l'obiettivo come dice Luca Campisi ci vediamo a Riolo 23 e 24 settembre festa nazionale della Croce Quotidiano non perdetevi alle 15.30 sabato 23 l'apertura della festa con Costanza Miriano che presenta la mia ultima fatica il mio ultimo libro appunto o capriamo o moriamo firmato e mandato in stampa oggi vistosi stampi 11 settembre 2017 l'11 settembre non è un dato una data qualsiasi l'ho scelta apposta saluto Antonio Baro Moreno Lovat Susi Esti è arrivata pure Clara che saluta con la manina ecco qua vi ringrazio davvero buongiorno a tutti voi domani ci ritroviamo come sempre qui alle 8 e qualche minuto per Stampe e Vangelo mi chiedono le frequenze di Radio Cusano Campus andate su internet fate un bel google del vostro cellulare si trova anche sul cellulare si trova su internet fate il google Radio Cusano Campus e vi escono anche le modalità per sentire la diretta dalle 10 e 10 dell'intervista che darò tra poco appunto continuando ad alimentare spero l'attenzione sull'attività del popolo della famiglia fatelo anche voi seguite tutte le trasmissioni di popolo della famiglia di fu propagandate ovunque questo nostro simbolo se il 100% degli italiani saprà che esiste il popolo della famiglia il 3% minimo ci voterà sono abbastanza sicuro di questo saluto Gianluca Marcucci saluto Danilo Leonardi che dà il bacione a Clara come Doardo Leone vi ringrazio tutti per la diretta di oggi un mi piace alla diretta e un condividi sulla vostra pagina se volete per farla seguire a più persone possibili da Manio a Dinolfi una buona giornata a tutti volete vedere di nuovo l'angelo custode eccolo qui ecco l'angelo custode e intanto l'altro angelo custode fisico che io ho che è Manuela Pongiru Pelluteri ha già messo il link a Radio Cusano Campus saluto anche Guido Pianeselli Nicola Ferraiuolo Alberto Rossignoli e tutti gli amici Pippo Inbesi che è arrivato in questo momento il grande Pippo Inbesi il nostro coordinatore nazionale Nicola Di Matteo con cui c'è anche una riunione oggi a mezzogiorno tra l'altro il 19 facciamo coordinamento romano lo dico per i dirigenti romani in collegamento saluto anche Venghiano Velasco da Maninolfi una buona giornata a tutti